Son serio con la sigaretta eh? Navigatore di nulla? Ma il pedale si ti ha presso questo è che proprio non... Se lo mi esce entrava un po' d'aria Ma come mai? Però non lo senti quando vai eh? No Ti dà sicurezza quale? Pronti bimbi? No aspetta aspetta Non mi dà le gare, tu mi dassi una mano e poi ci ripetiamo Questa è una cosa che si chiama? Questa è un po' di rinforza Questa è un po' di rinforza Questa è una cosa che si chiama per andare a rinforzare ora è il giusto passaggio, ci hai ritratturato non è vero? non è vero, non è vero Perchè? La terza kraft uguale? La terza kraft uguale? Vedi Ale, si fa troppa polvere, il filtro non bisogna lasciarlo aperto così. È? Ehi, è praticamente cantato lì. Come hai detto ti fa male? Come una spalla. Te la voglio vedere questa spalla. Ecco la vestizione, pilota. Naviga. Naviga. Si prova a fare quelle esterne che non sono impegnative. Se la faccio fa bucci la macchina anche all'esterno. I piloti li mettono in moto. Qui sei dipravviantato bimbi. Qui sei dipravviantato bimbi. Qui sei dipravviantato bimbi. L'acqua non è capace. Non si fida più però. Un si fida più. È un po' largo. Va' di far più, guarda. Avete fatto una riflessa, poi basta. Va' di chi li ha la mano, vabbè. Sì, è vero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bucio, non si passa a mia piano? No, però io non mi faccio, ma lei mi ha presciato qui da bucci. Non lo vedo più. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.